Volli, fortissimamente volli e il front office di Via Torino in 448 è stato inaugurato in piena campagna elettorale a pochi giorni dal voto, ma a quanto pare la fretta non è stata buona consigliera. I lavoratori ci comunicano che sono soggetti oggi ad esempio a martello pneumatico per 4 ore di seguito, poi altre 4 nel pomeriggio durante l'apertura al pubblico. Questo è un esempio di oggi, stanno continuando ad andare avanti e indietro operai per sistemare le cose che non erano sistemate, quindi ciò significa che il front office non era pronto all'inaugurazione. Lavoratori esasperati che documentano con tanto di foto lo stato di disagio che stanno vivendo e non nascondono che l'obiettivo rimane uno solo. L'obiettivo è quello di riportarlo in centro, ricordiamo che Piazza Biada è un deserto, ci sono ancora i mobili nuovi acquistati qualche anno fa per l'anagrafe che sono là, un deserto, inutilizzabili, anche lì sono soldi pubblici buttati se non vengono utilizzati. Tornare in Piazza Biada è la richiesta contro un front office dal quale tutti in campagna elettorale avevano preso le distanze. L'attuale sindaco Rucco, il quale aveva dichiarato che appunto aveva già un progetto ben preciso per quell'edificio lì, prendeva le distanze dalle scelte dell'amministrazione, vuole rivitalizzare il centro storico, quindi lo attendiamo alla prova dei fatti e delle dichiarazioni fatte. E noi di Rete Veneta che fino da subito abbiamo seguito la vicenda, torneremo dal neosindaco Francesco Rucco per capire quale sarà il futuro della struttura aperta in via Torino.